Ciao a tutti ragazzi e bentornati per questo nuovo video. Un grazie speciale a Pippuzzo86 che mi ha accompagnato in tutte queste orde. In questi video solamente i livelli boss, così li guardiamo tutti e vediamo un attimo come li abbiamo affrontati e quando. Spero che il video vi piaccia, fatemi sapere, commentate e iscrivetevi. Ciao a tutti. 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 Sì. Sì. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Mortificazione riparata! Spacca! Ho un drone! Mancano 30 secondi ai rinforzi. Mortificazione riparata! Mortificazione riparata! Mortificazione ricaricata! Torretta riparata! Torretta riparata! Torretta riparata! Non si fa! No! Non si fa! Non si fa! Non si fa! Non si fa! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.